ciao sono massimo della 1 casi immobiliare oggi ti porterò a visionare una nostra nuova esclusiva una billetta indipendente a pochi passi dal centro storico della città in una zona residenziale in mezzo al verde seguimi la città in una zona residenziale in mezzo al verde alcuni turismo calzare metri calzare 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 metri Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti